Allora, qui con me ragazzi c'è un ospite d'eccezione, ho deciso di inaugurare l'angolo, diciamo, interviste con una persona con cui, diciamo, mi sono spalleggiato all'inizio su YouTube e poi all'inizio almeno su Twitch. È una persona che ha fatto un percorso ben preciso, ben delineato come content creator appunto su YouTube e che quindi, secondo me, anche a livello simbolico è giusto che inauguri con me, tagli il nastro virtualmente di questo piccolo angolo. Qui con me ragazzi, Marco Merrino. Ciao, ciao ragazzi. Come stai, Marco? Sto molto bene, grazie. E' pieno, Satollo mi hai detto, no? Pieno, siamo andati a mangiare da suo padre. Allora, innanzitutto, ecco, partiamo da questo. Ti sei divertito, hai mangiato bene? Mi sono divertito e io non me lo aspettavo esattamente come nelle storie di sto padre. Infatti, quando... io di solito reagisco con abbastanza... a tuo padre? A mio padre, che sembra morto in questo momento. Ah, a te. Come si chiama tuo padre? Fabrizio. Ah, Fabrizio. Sto è amaro, eh ragazzi? Buono, tra l'altro. Buono, l'avevo ancora assaggiato, buonissimo. Ok, quindi hai mangiato bene. Sì, reagisco abbastanza in maniera di interpretare le cose, ma lui lo è davvero tanto, quindi a volte puoi solamente guardarlo. Poi mi hai detto che abbiamo la voce uguale, quindi insomma... Identità, te l'hanno detto tutti quanti. Comunque, più che tu hai la sua, lui ha la tua. Sì. Sì, dimostra molto meno anni la sua voce. È vero, è vero, abbiamo mangiato un botto, quindi siamo un po' rincoglioniti dalla birra e dal cibo, però cercheremo di dare il massimo. Per questa intervista, tra l'altro, come sai bene, non mi sono preparato niente. L'abbiamo deciso insieme, però non prepariamoci niente. Sì, 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 l'abbiamo deciso, anche Marco non si è preparato il foglio con le risposte, perché come ti ho detto, cioè no, non te l'avevo mai detto, ma secondo me questa conversazione dovevamo averla già da tanto tempo, però l'abbiamo avuta sempre a pezzi. Questa conversazione? Sì, questa chiacchierata. Ah, sì, sempre a pezzi, in più pezzi abbastanza importanti. È vero. Abbiamo sempre parlato di cose importanti, ma o tu avevi un time out dove andartene, o io pure. Sì, è vero. C'era sempre o una fiera o un appuntamento che ci... Ed è anche per questo che si è creato un po' il meme di che palle con Dario, perché abbiamo solo sviluppato in quel modo là. Sì. E per quanto molti, professionalmente, una cosa che tolgo a me, non tanto agli altri, ci riescono a ragionare così per mantenere un rapporto, soprattutto se è conosciuto su internet, io non ci ho mai veramente fatta, ma non l'ho mai neanche veramente rispettato. Andrea, 99, 2510 Pippoli. Ti conosci con qualcuno di famoso, nel mio caso quindi, che faceva quindi la mia stessa cosa, è veramente un presupposto per essere amici. È vero, però a te hai dato sempre un'importanza vitale all'amicizia e soprattutto hai sempre messo... IRL. IRL, certo, hai sempre messo anche avanti mani e piedi prima di stringere veramente tanto con una persona, perché ti fidi poco. Sì. Eh, e perché ti fidi poco? Mi fido poco. Il mio caro amico Daniele, nell'ultima... Io in realtà, se devo pensare a quelle che sono state le mie amicizie nella vita, mi sono fidato sempre tantissimo, ma a quel livello che si arriva in quelle frasi là, poi la prendi nel culo se ti fidi tanto, no? Perciò è un po' fake come cosa, però è vero il fatto che mi annoio presto e mi scorcio subito, ma a quel livello che è palese che se io mi vedo con Dario dobbiamo parlare di quello che facciamo. E quello che facciamo, già ne parliamo abbastanza, basta, no? Quindi si crea quella specie di... Io mi... quando io di solito mi guardo, mi vedo con una persona IRL, tipo usciamo, facciamo cose così, è sempre un po' un... vediamo la nostra vita com'è. E di fatto noi comunque parliamo della nostra vita perché questa è la nostra vita, però è abbastanza sicuro che se ti vedi con una persona che è conosciuta nell'ambito influencing, sarà una giornata abbastanza dedicata a quello. E a me... per questo non sono mai stato virato nel sviluppare le amicizie fatte online, a meno che non ci fosse prossimità, nel senso vicino... Quante volte l'abbiamo detto? Quante volte l'avete scritto anche agli amici lontani? A voglia. Vorrei così qui, tipo, cazzo che abitiamo lontani. Poi è sempre questo dramma che tu le persone migliori stanno a cento pianeti da te. Quindi non c'era neanche bisogno di... non c'era anche la necessità di sviluppare perché non c'era la possibilità di sviluppare. Quindi è una sorta di miracolo se noi appena ci siamo visti siamo messi a parlare due ore di videogiochi e quasi mai di Twitch praticamente da quando sei arrivato qua oggi. Lo era e non solo, mi ha anche stupito perché io comunque l'ultima volta ti lasciai... Ma in generale, anche voi che non lo conoscete, che lo guardate solamente, si può ben immaginare che una persona, soprattutto che è arrivata al livello dove sei arrivato tu, è impegnata solo in quello. Ok. Quindi i tuoi argomenti diventano quello. Non che non ce ne siano altri, però comunque è abbastanza overwhelming. È davvero pazzesco, è particolare comunque la fama online, soprattutto dopo tanto che lavoriamo in questo percorso. Molte persone, vedete, cadono, cadono in depressione, muoiono, spariscono. Burnout. Totale, sì. Perciò piacevolemente stupito dal fatto che abbiamo avuto una giornata non male. Te ci sei mai arrivato a quel livello lì? Cioè al burnout? No, no, no. Io stavo arrivando al burnout un anno fa e infatti ho smesso perché non riesco a produrre o anche a farmi vedere se non sto bene. Non riesci a fingere? Con il pubblico? Io riesco a fingere col pubblico ma non riesco a riguardarmi se sto male in quel momento là perché so che sto dando la metà della metà di quello che dovrebbe essere. Quindi le bugie posso dirle. Cioè faccio un po' il manino. Vabbè, sì, figure. Faccio un po' il figlio di puttana perciò è di attento anche quello. Ma io parlo proprio di una roba di non stai abbastanza bene per produrre qualcosa che ti piace anche a te. Anche magari qualcosa di brutto che però sarebbe più brutto di quando lo fai stando meglio. Anche perché hai sempre detto che tra YouTube e Twitch preferisci sempre YouTube perché puoi progettare quello che vai a lanciare. Io preferisco YouTube per quello che faccio. Sono bravo principalmente in quello. Preferisco di moltissimo Twitch per la relazione col pubblico. È pazzesca. Ah, sì. Per ovvi motivi. Cioè in tempo reale è solo quello. Si creano dinamiche molto interessanti. Poi adesso si sta molto anche appiattendo la differenza nei limiti ovviamente di chi fa Twitch, chi scrive nei commenti, chi freeboota. Sono tutti famosini. È vero. C'è il commentatore famosino, c'è il freebooter famosino, c'è il tuo amico famosino. È molto particolare. Su YouTube non era così. Io ho un esempio che sono di tempo borraccia, però era sempre visto come parte mia. Nel senso che non esiste senza. Su Twitch è diverso. Ognuno può farsi i cazzi suoi anche se nasce, ma dalla tua l'orro, proviene dalla mia, oppure è nato per via da sverse. È molto interessante a questo punto di vista. Essendo che sono tematiche sociali comunque, anche se sono di internet, per me sono sempre molto interessanti. E queste cose le preferisco. Su YouTube c'è genio. Ha ha ha. No, questo è brutto, eri con me io prima. Sì, si ragiona parecchio per estremi. Cioè o fai il progetto della vita, secondo me Impacto G è il tuo progetto della vita, ma ci andiamo dopo, sì. Oppure, sei cambiato, sei una merda, era meglio quando, io ho letto mille volte, ma anche su di me. Io ho già dato il secondo video da dieci anni fa, Alessi, era meglio prima. Quando eri a Messina, quando vivi a Messina, come se Messina avessi delle vibes. Questo è il troppo basso. Ogni volta che mi dicono questo cosa qua, io dico, ora ci torno. È senza senso. E faccio il video più brutto che esiste. Davvero? Eh sì, solo a spregio nei loro confronti. Sì, sì. Vabbè, ma penso che mi verrebbe pure se tornassi a Messina. Eri meglio quando eri su YouTube, chiaramente. Sì, ma è sempre così. Insomma, non trovano sempre un... un punto della tua carriera dove sei crollato, dove sei cambiato, effettivamente. Però siamo cambiati un po', per forza. Come fai a non cambiare? Con la crescita, la maturazione. Uno dei motivi per cui io penso di essere un cretino a prendermela per queste cose qua. Perché io più che prendermela, cioè io non dico, fa un culo coglione, perché anch'io metto like a dei canali che poi non seguo mai più. Io guardo, soprattutto Twitch e YouTube estero, mi fisso con un canale di solito, ma nel senso che quando mangio lo guardo, quando cammino me lo metto in cuffia, ma accade per motivi che non mi sono mai messo così tanto a pensare, che lo abbandono. Quindi proprio come fruitore io ragiono allo stesso modo dei miei. Il fatto è che non trovo mai il motivo per buttare giù qualcuno solamente, perché adesso fa qualcosa che a me è stato il cazzo. Perché artisticamente, ma in generale anche nella vita, si cambia moltissimo. E mi ha fatto tanta distezza sta roba qua, ma non a un livello di offesa personale, ma proprio a un livello di che palle che mi seguono persone che non riescono a capire che a un certo punto no mi sono rotto il cazzo di urlare. Mi sono rotto le palle di fare sempre la stessa serie, indipendentemente dai numeri che fa e dal bene che ha creato, a quale io sono sempre grato, ma non riesco veramente ad essere grato a una critica che si pone e che finisce con sei cambiato punto. E mi è sempre sembrato una roba di... Ero giovane quando mi piacevi, ora non lo sono più. E quasi odio il mio stesso di tempo fa e devo fartelo sapere nel modo più sbagliato possibile, però sei cambiato, Marco. Ma meno male. Una cosa che non è cambiata invece, che in realtà è sempre stata coerente nel tuo percorso, che mi ha sempre colpito, è che te sei sempre stato parte di un duo comico. Borraccia, tuo fratello, Daniele, siete sempre stati in due. E in realtà poi se guardi le robe che fai, o i video, o anche le live dove sei un po' più naturale, anche se anche lì c'è molto teatrina, è come andare su un palco, sembri una persona molto non arida, ma comunque grossier, come diano francesi, cioè molto edgy, no? In un certo senso. Tu me l'hai sempre detto. Sì, 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 chiaro, ma anch'io lo sono, quindi ci troviamo da quel punto di vista. Però effettivamente non sei mai riuscito a stare da solo del tutto. Anzi, quando ti elevavano un partner, tuo fratello perché stava a Messino e te a Milano, Daniele per il band di Twitch, eccetera, andavi subito in tilt? O no? Oppure riesci a campare anche bene da solo? Molto particolare come... Io non ci ho mai effettivamente mai pensato, non ci ho mai pensato al... Sono sempre stato un duo, però effettivamente è vero, ma non tanto la cosa del tilt. Mi sono sempre ritrovato in grande... pace quando mi ritrovavo da solo. Ma non è una pace di, ah, finalmente mio fratello, non c'è più, finalmente borraccia, ho finito. È sempre stata una roba di... Io mi fido abbastanza del mio operato, perciò... No, 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 tilt mai. Cioè, quasi è come se... Ora, sono da solo, quindi per forza devo sopravvivere, o fare qualcosa, quindi mi fido del mio lato artistico. Qualcosa esce fuori. Ok. Quando mi sono da sfida a Milano, io ho perso i ciccio e in più non lavoravo con Daniele su YouTube. Per un anno o due io e Daniele non abbiamo fatto letteralmente nulla. È stata una preparazione all'amicizia, è stato molto particolare il nostro rapporto. Quindi i miei primi prodotti di Milano sono stati io da solo, ma ero più felice che mai. I primi video che ho fatto a Milano, artisticamente per me, sono stati quello che... Mi sono diretti da tantissimo. E quel è stato anche il primo momento in cui mi sono un po' lontano dal pubblico, perché nel momento più bello per me, cioè dove mi sentivo mentalmente a posto, a livello geografico, di tante cose, nello stesso momento arrivano i commenti di... si vede che Milano ti ha cambiato. Vai, due mesi, è subito. Nello stesso momento, prima i contenuti erano diversi e arrivano così tanti questi commenti qua, che a un certo punto comunque il pubblico sono persone, nel senso migliore del termine, quindi a un certo punto ti fidi. Se tre persone dicono sei un coglione, e tu dici no, è tre contro uno, a un certo punto almeno il dubbio ti viene. E quindi ho fatto... Mi è capitato di fare quello che non ho mai fatto prima, ovvero rivedermi i miei contenuti, e è successo quello che è sempre successo, che mi fa un po' schifo. Sono una delle classiche persone che fa un video. Avete sempre avuto il compagnetto che fa il bel disegno, poi è bellissimo, però poi dice no, è un po' una merda. Noi c'erano compagni che dicevano mai studiato per il compito oggi? No, no, assolutamente no, e poi prendevano nove, dieci, come al solito. Penso sia un po' quella falsa linea là. Ho capito. Perciò ho detto, ma cavolo, come fanno a non capire che non è tanto che non è più bello, perché può anche piacerti il contenuto di prima. Il fatto è che è di prima. Ok. Perciò ora è diverso, e sta funzionando, e comunque tu, quando io vedo un canale che non mi piace più, ma vedo che comunque sta ancora andando e che ha scelto la strada là, ma che cazzo sono per dirgli niente? Soprattutto se ho mangiato tantissimo da quel piatto, soprattutto in un'età dove magari mi ha fatto compagnia. Oggi abitiamo comunque in delle case fatte appositamente per chi ci guarda, è proprio quasi un ode all'intrattenimento, a un livello che tu, questo posto qua ce l'hai solamente per quel sito là, Twitch, ed è una roba che comunque su YouTube non c'era, è una grande, secondo me, lode all'arte, all'intrattenimento, e chi segue, ho sempre questa presunzione che debba avere il buon senso di capire, di starsi zitto quando le cose non gli piacciono più. Te ne vai. Te ne vai. Dal cazzo. Per sempre. Bene, è una... Ma io piangerò. Io piangerò sempre. Ecco, sì, anche io rispondo, cerco di difendermi con l'ironia, però un po' dentro ci soffri. E non dovremmo nemmeno dirlo, perché è un'arma per loro. Ma no, perché io sono sicuro che è quel pezzo di merda che ha scritto Marco si è cambiato, poi lo incontro una fiera, mi dice, sono io, io gli chiedo pure scusa. Perché comunque mi piace arrivare a tutti. Ok, perché siamo anche un po' fragili, fondamentalmente, dai, su questa roba qua, o no? Te ti senti fragile o uno tosse? Io credo che in questa cosa qua un po' è la... indicherei come fragilità, perché è presuntuoso, è anche molto... è proprio prepotente volere il buon senso di queste persone qua. Solamente perché sono su internet. Solo perché sono su internet è già una regola scritta che ovviamente non possono capire, quello che io capisco, perché io sto creando e loro stanno guardando. Perciò penso che sia effettivamente un po' di fragilità, ma addirittura immaturità. E questo è anche uno dei molti motivi per cui sette mesi fa decisi di allontrarmi un attimo, di prendermi la pausina. Ok, poi parliamo anche di quella pausa perché mi interessa molto. Però si è parlato di Milano e si è parlato di Messina e di te che vai via da Messina. Un po' di tempo fa, forse un annetto fa, girò su Telegram, quando il mio gruppo Telegram era ancora molto piccolo. La foto del mio ragazzo in bocca? No, no, no. Quale allora? Un tuo audio che mi ha colpito molto che non l'avevo mai sentito. Un mio audio? Sì, un tuo audio dove eri carichissimo e comunicavi, non so dove, su WhatsApp, su un gruppo Telegram, che stavi, sì, volentieri, che stavi cercando uno studio a Messina per produrre video. Ed eri carichissimo, eri molto entusiastico, forse abbiamo trovato uno studio. Capisco benissimo, mi ricordo benissimo il momento. Ok, e scusa, allora cos'è che ti ha poi portato a fare quella scelta drastica di abbandonare tutto e di mandare a fanculo Messina? Cos'è? Cioè, qual è il momento in cui si è rotto qualcosa? Le piccole cose, le piccole cose, perché io, questo studio l'abbiamo cercato, l'abbiamo trovato, l'abbiamo trovato via Giampiero, che è uno dei miei cameraman, e la costruzione, la realizzazione di questo studio è arrivata con tutte le problematiche di una città che non vuole, non desidera, non promuove questo tipo di attività, questo tipo di lavoro, quindi tante risposte da dare a gente che non ha mai fatto quella domanda, ovvero ma cosa fate voi qua dentro? Dalla linea internet a quella elettrica, è un disastro che ho sempre sentito dai miei, io sentivo queste lamentele dai miei, cose che mi hanno sempre, comunque io sono rimasto a casa con i miei fino a 28 anni, perciò avevo veramente una ripetizione di lamentele di quelle che erano il loro malcontento da cittadini che quando ho iniziato a farle io, perché non mi stava andando bene quella cosa l'ha visto che volevo espandermi e Mary Act e tutte quelle serie là, ho detto no, io non posso cadere nella trappola perché iniziano a, inizieranno a venirmi le rughe per problematiche che non devono esistere, perché a me questa cosa piace, piace alla gente che lavora con me, piace alla gente che mi guarda, non posso alzarmi e una persona al telefono mi dice eh per quella zona là, non c'è internet, però il giorno prima mi hanno detto che c'era quindi già ho firmato il contratto, io ammazzo qualcuno, di baci, con le lame, con le lame. Ma quindi è stato un po' lo studio, cioè il voler costruire uno studio a Messina che ti ha... Poi ce l'abbiamo fatta ma con una fatica che non dovrebbe esistere, perciò ho detto devo andare in un posto dove se chiedi hai. E sei andato? Subito, sì sì sì, con zero remorse. Mi ha colpito anche molto l'aneddoto della bandiera della Sicilia. Hai visto? Non so se l'hai mai raccontato. E quella delle scarpe? Sì, certo. L'ho raccontato pure recentemente. Ah sì? L'ho raccontato recentemente, c'è il vecchietto che mi ha visto. Sì che ti ha detto No, non serve per questo la bandiera. E questa è una marcata come direbbe un fratello. Dovevamo... Vabbè, era l'ultima nave. Noi ce la siamo fatti in macchina. Quindi siamo saliti sulla nave a un certo punto che prende treni e macchine e dentro la nave c'era qualcuno che vendeva le bandiere della Sicilia per chi veniva. Io l'ho comprata anche se me ne stavo andando e questa persona mi ha visto metterla per terra, salirci con i piedi e guardare la Sicilia così. Volevo guardarla tu allontanarsi. È una cosa simbolica. Sì, sì, sì. Che può fare incazzare tutti ma fare davvero contento come i ragazzi vi giuro tantissimo. Perciò rispettatemi. Io rispetto quando dire... Credo abbiano detto ancora niente, Marco. Se volete dire qualcosa per favore nel rispetto di quelle che sono i miei disrespect. Va bene, funziona così oggi online. E lui fa... Io no, guarda... Parlava così? Certo, certo. In Sicilia si parla così. È il siciliano questo. Cioè... No, col sale. E quello era un venditore di bandiere e quindi ha visto questa cosa qua e si è un po' arrabbiato e gli ho detto la carta. Cioè è una cosa nostra per favore. Ho capito. E poi ti ho dato già i soldi non è finita la nostra transaction. Però avrai fatto un po' pace con Messina o no? Ho fatto un po' pace con i miei genitori. Quella è una cosa bellissima. è con i miei amici che comunque... Come hai fatto Marco a fare pace con i tuoi genitori e con i tuoi amici? Con i miei genitori... Hai presente il video Scusa Messina? Sì, certo. All'inizio dico è morta mia nonna per la prima frase e ahimè mi sono sentito un po' nipocrita perché quando io ero piccolo vedevo che i miei genitori... Comunque la Sicilia è tutta una grande... è un grande club di comari. Quindi c'è molto il dramma c'è il gossip la gente litiga non deve salutarsi per strada perché quello là gli ha disonorato la cosa tipo un giorno gli ha... ha preso un euro pensando che fossi solito la scrivania e quindi adesso è il ladro del paese. È assurda come terra. È pazzesca. Sento sempre parlare di questo niente di nulla. Vabbè e quindi io odiavo molto la piccola il fatto che quando la gente andava a far pace con una famiglia con degli amici con qualcuno soprattutto gli adulti lo faceva perché era successo probabilmente qualcosa di inercepibile perché l'era morto qualcuno e ahimè è accaduto pure a me è morta mia nonna sono dovuto scendere perché era così diceva mia mamma e le persone muoiono e e e e e lì ho visto comunque mia madre che mia madre già aveva sofferto la morte di suo padre che mi disse fosse la persona migliore del mondo e poi accade quella di sua madre l'ho vista proprio morire mia madre perciò quando sono tornato a Milano io e mio fratello abbiamo pensato di regalare a mio padre e mia madre questo viaggio a Milano bello sì l'abbiamo fatto stare con noi abbiamo fatto una settimana assieme sono andato a ristorante con i miei dopo senza scherzare proprio 15 anni non facevamo niente assieme non gli parlavo in più io ero in quel momento in terapia perché due anni fa ho preso questa decisione qua ero davvero tanto tanto cambiato e scoprì che uno dei più grandi amori della mia vita comunque fulcro finale di quelle che erano le mie ire era mia madre perciò era abbastanza impellente per me almeno chiudere tutti quei capitoli di merda che hanno rappresentato il nostro vivere assieme senza capire un cazzo di noi stessi perciò ho preso questa palla al balzo della morte di mia nonna per riaccumunarci c'è stato questo momentino dove noi siamo andati a mangiare assieme ero una top carne ero con mio fratello è stato molto strano perché io quello che mi hai raccontato ciccio è quello che mi hai raccontato ma quando ti l'hai raccontato una settimana fa sì un mesetto fa è particolare perché io parlai a mia madre e a mio padre a cuore aperto e io come hai deciso sono sempre stato un po' legge del cazzo quindi mia madre era abituata a un me che fra una cena e l'altra chiedeva mamma ma vai a me a bere fin culo Marco quindi il mio primo pubblico fu mia madre assolutamente sì ma non metteva mai like alle mie cose forse sì non lo sapevo là invece mi sono aperto è stato proprio a cuore aperto ma non per fare leggi ma per parlare dei miei problemi di come li stavo affrontando mia madre la vedi stunnata stunnata perché non sapeva come prende no era sia contenta del fatto che finalmente tuo figlio ti parla come un figlio e non come uno youtuber cazzo è euforico ma ma era anche spaventata perché diceva esistono questi problemi qui aiuto mi sta morendo mio figlio mentre invece io ero molto calmo e volevo solamente comunicarle quello che si era persa in un sunto che comunque immaginavo potesse far paura quando siamo tornati in macchina al suo hotel questa parte immagina che l'ho abbracciata ed è strano abbracciare una madre che hai odiato per tanto tempo perché diventi un po' quel cringino che fa devo toccarti il seno che devi fare non capisco così lei si è affiondata subito perché comunque anche mia madre come me ha un cuore fatto di marzapane poi ci siamo allontanati e io sentivo un po' freddino qua sulla guancia e facevo che cosa sei la guarda e faccio ma stai piangendo lei sì io ho detto per la prima volta non perché ho fatto qualcosa di male almeno bene che bello però no? che è andata a finire così ma te sei cambiato quindi per la terapia perché hai capito delle cose su youtube no non ti sta più parlando di quell'argomento scusa forse ho effettato ormai te la sei segnata sì e invece secondo te i tuoi genitori in che cosa sono cambiati? loro hanno preso internet la presa di posizione della globalizzazione virtuale in una maniera che io non immaginavo anche perché loro avevano un'avversione verso quello che amavo io che non era altro che internet i primi tempi e i videogiochi hanno sempre quindi avevo queste immagini loro di grotteschi motherfuckers che appena internet avesse preso un po' di piede sarebbero stati sempre più lontani e invece ma anche solo nella comunicazione a telefono pronti a imparare di più pronti anche a farlo per il bene mio perché comunque vedrei mio padre che commenta mentre sto in live con Ciccio è abbastanza incredibile beh sì è stato interessante che vede lì un impatto G secondo me perché hanno forse le due battute più belle del video e non voglio spoilerare tu sei il primo che ha scompliato il fatto che mia madre l'avessi usata in quel modo lì non diciamo niente però ha delle battute veramente veramente notevoli e quindi vabbè anche loro vabbè scoprendo internet e capendo che internet si era fuso totalmente l'abitata di tutti i giorni chiaramente te lavori su internet sono cambiati tantissimo ma non solamente per me ma proprio perché sono dei cool genitori ok non hanno fatto fatica a rimanere al passo con i tempi solamente a dirlo a me hanno fatto fatica che era molto equivalente a quella che avevo io nel spiegare quello che amavo a loro la stessa fatica ma per questo il simbolismo di mia madre che ci ritroviamo è abbastanza cuorificante perché è doveva succedere perché abbiamo avuto la stessa difficoltà nonostante siano avuto lo stesso bisogno proprio di riallacciarsi con il suo figlio e io con mia madre e grazie al tuo progresso di questi ultimi anni ti sei avvicinato o hai rivelato nuovi lati di te a qualche tuo amico a cui tenevi molto la metà delle persone con cui ho fatto pace cioè c'erano le due metà importanti erano la famiglia e gli amici tutti gli amici sì sì ma nel senso che mi sono preso proprio la briga di farli sedere a Milano di vedermi con loro per chiarire faccia a faccia situazioni che finivano con me che non sapevo comunicare nei momenti cattivi del cazzo e quindi scappavo via a me non interessava niente e ho vissuto veramente una vita questa cosa qua internet danneggia perché quando arrivo internet nella mia vita mi applaudi ad alto volume e questa cosa qua lo sai benissimo ti assuefa tantissimo e quando accade tu sopperisci a tutte quelle cose che non si fanno nella vita vera e nel mio caso era comunicare con gli amici con la famiglia perciò sono tornato da chi comunque nella mia vita ha avuto una grossa fetta e che io ho amato ho rispettato ho voluto bene e ho chiesto umilmente scusa e sarebbe un po' come l'hanno presa? strano l'hanno presa strana cioè? perché sembra una grande presa per il culo anche quella? è molto strana anche perché io mi immagino nei panni non lo so questo tizio qua che va a Milano ora sta meglio e quindi sembra quasi un ostentare sembra quasi un ostentare lo stare meglio far venire tutti no io non la vedo così con te sai io la vedo più con Marco è indecifrabile diciamo che Marco nella maggior parte dei casi sei indecifrabile due casi dove sono indecifrabili il caffè eh il caffè sì quella cosa sei te io non mi ricordo bene questa roba qua ti ricordi? ti giuro no del caffè mai allora secondo me questa cosa che sto per raccontare rappresenta Marco in tutto in tutto nonostante rappresenti una cosa che tutti noi consumiamo e che è un rito e forse proprio per questo ti sta sul capo un rito forse allora prendere il caffè ok Marco io prendo pure il cappuccino Marco non prende il caffè nei momenti in cui va preso cioè cioè il fatto di questo momento che cazzo eccolo lì quanti volevo allora lui non prende tipo eravamo prima in ristorante caffè oh no no io no ma perché non lo bevo non mi piace falso no mi piace hai detto ora che bevi il cappuccino sì con un cazzo di litro di zucchero chilo di zucchero e litro di latte va bene comunque una volta bene il cazzo ma malissimo perché dico questo è che una volta a parte che lo sapete tutti per l'attacco dei giganti che non ha visto un anime perché i suoi amici guardavano un anime già questo sei folle però questa folle sì però ne parliamo dopo allora vado a casa sua un po' di tempo fa per fortuna non se lo ricorda perché sennò avrebbe trovato dei sotterfugi per buttarmela in culo va bene arriva con le mani dietro la schiena l'ho detto prima anche al ristorante quando arriva Marco con le mani dietro la schiena è una cazzata 99 su 100 non è successo nulla e ti deve comunicare una puntarata arriva e fa Dario vuoi un caffè? vuole? no no vuoi un caffè? cioè Marco mi sembra che tu mi stia prendendo per il culo ma no dai non mi ricordo sì me lo ricordo benissimo ma no dai è sempre un buon momento per un buon caffè ok Marco mi stai prendendo per il culo non vuoi sentire i chicchi che si spaccano sotto le labbra? no ma sai che cazzo mi passa per la testa bro? non sono così tutte le cose che rappresentano no no non sono così binguzzo fa così comunque insomma e anche a te ti sei perso uno dei più bei manga anime degli ultimi anni perché i tuoi amici parlavano continuamente di quell'anime e te non avevi voglia di recuperarlo sei pazzo ma pazzo è esageratissimo vabbè comunque questa cosa qui si estende anche le cose serie si estende è bello avere confermi si di gente che porto io e che è completamente dalla tua comunque questa cosa qui è un problema quando ti ritrovi a fare questi discorsi perché anche io mi sono ritrovato a dovermi scusare con persone a cui avevo fatto male a cosa stai pensando in questo momento? a cosa ti sei scusato? sono scusato perché comunque anch'io ero come te cioè quando te parli degli applausi del pubblico io voglio continuarla questa metafora gli applausi del pubblico a volte sono talmente assordanti che non senti le richieste d'aiuto delle persone a cui hai fatto male che sono più vicine fisicamente sono d'accordo e quindi anch'io mi sono ritrovato a fare i conti con delle cose che avevo lasciato lì ferme da anni magari si 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 e anch'io su certe cose ero come te per esempio questa roba qua del odiare tutto ciò che poteva fare che poteva creare gruppo in un'altra sfera che non mi interessava per esempio ai miei tempi c'erano i motorini tutti parlavano dei pezzi motorini come truccare il motorino io facevo mi mettevo anch'io le mani dietro la schiena guardavo le marmitte e facevo wow ma questa è una bellissima marmitta e tu ti dai lo ti levi dal cazzo io penso che ci sia qualcosa di oggettivamente divertente in questa cosa qua perché chi cazzo parla dei motorini assolutamente si ma anche quella cosa di attaccontate è un oggettivamente divertente ci sono andate avanti un anno un anno e mezzo una cosa assurda un anno e mezzo si ed era oggettivamente divertente sono sicuri per me si ok però perché ti conosco per chi non ti conosce a volte è difficile trovarsi davanti un marco che seriamente dice scusami per quello che ti ho fatto un anno e mezzo fa o due anni fa no ovviamente non parlo di queste robe qui non parlo dei meme parlo di cose più serie però si capisco vabbè quindi un caffè non adesso no io se qualcuno vuole prendersi un caffè mi prendo un cappuccino vabbè non ce l'ho il cappuccino ok ecco parliamo adesso di impatto G però certo perché io l'ho visto prima io l'ho fatto vedere prima l'ho visto per intero non si sa ancora bene quando esce perché non vuoi esporti e penso prima della fine di questo mese qua ok sì dai penso che anche perché coinciderà con il mio ritorno su Twitch che lo immaginavo per questo mese qua ok io l'ho visto ragazzi sicuramente non lo dico per piageria perché Marco è qui ma glielo abbiamo detto anche io e Davide prima è il miglior video di Marco senza dubbio ed è secondo me confermo per l'ennesima volta l'ho già detto quando avevo visto i primi dieci minuti in anteprima a casa sua è una sticella con cui gli altri creator di YouTube che fanno un po' il tuo stesso genere di video cioè una sorta di racconto una sorta di narrazione attraverso il video su YouTube dovranno fare i conti da qui in avanti perché è una roba a livello anche produttivo a livello di scrittura a livello anche di comunicazione perché comunque te vuoi comunicare qualcosa non è un video solo comico anzi secondo me fa ridere la prima parte è un pezzettino poi è una riflessione ecco come sei arrivato a il video di Marco che parla male di cose che odia che urla che mema molto con un montaggio serrato a un racconto senza dire niente sicuramente più dilazionato che si prende i suoi tempi che vuole raccontare una storia intanto per rispondere alla cosa che hai detto prima però dovranno farsi i conti io lo spero tantissimo ma non a livello competitivo ma proprio perché YouTube Italia è diventato freebooting di Twitch e a mio parere c'era un grande valore ma solamente banalmente nel fatto che è un medium diverso che proprio come il cinema andrà sempre a pari passo con tutti gli altri non divento obsoleto a mio parere perché quello è scriptato è preparato è figo è un circo mentre invece Twitch è una forma di interattimento secondo me superiore a livello di cosa può succedere ma comunque è una chiave diversa ovvero irreali di quello che succede nella vita vera per il come ci sono arrivato l'ho scritto tutto in piscina in piscina? con mio fratello in piscina sono uscito all'acqua e faccio no ciccio c'è questo video che voglio fare dovremmo fare queste scene l'idea è avvenuta in piscina tutta in piscina ah ok tutta sott'acqua video ideato in apnea bene ma per il processo artistico avevo fatto l'ultimo Home and React con la di Miracle Blade e durante la scrittura e il montaggio di quel video là ho sentito tutto quello che sentivo quando una serie moriva ovvero il fatto che non mi piaceva più cosa che è venuta molto carburata dal fatto che poi ho visto che continuo a piacergli a tutti gli altri e quando io non divertendomi riesco a fare qualcosa che diverte gli altri è un grande campione d'allarme perché avrei il passporto per continuare all'infinito e quindi questa cosa per me artisticamente vuol dire davvero vecchiaie ci sto abbastanza lontano anche perché su internet se ti fissi su una cosa morirai fra un po' io non voglio morire vorrei sempre rimanere qua mi piace mi piace sempre di più ma poi perciò era necessario per me utilizzare una comunicazione che non avevo mai utilizzato prima mi piace molto sfidarmi soprattutto in montaggio e questo video è stato una grande sfida per me perché questo è uno spoiler che in realtà posso fare non è comico il video è tragicomico più tragico è comico e tutti i tempi sono dilazionati di tantissimo è come prendere un mio video di tempo fa e mettere lo slow motion del 200% è lento è un facing molto lento sei un po' troppo severo secondo me non è così lento secondo me lo vedi lento perché l'hai visto a 200 volte è lento rispetto a quello che faccio prima quello sicuramente ma non al 200% è semplicemente si prende un po' più sui tempi che comunque per me è stato non dico difficile ma particolare fare perché non l'ho mai mai fatto prima e per me era imperativo fare qualcosa che mi divertiva principalmente regola numero uno che per quanto viene spammata persino in Ollie e Benji è davvero quella là ragazzi divertitevi in quello che fate se no è la fine o l'inizio della fine l'inizio della fine è più speranzoso quindi pensi che ce la puoi fare poi invecchia dici come mai perché hai scelto qualcosa che non ti piace quindi divertitevi cazzo e questa cosa stava succedendo durante le riprese durante la scrittura facevo leggere il mio video a Mario facevo le scene con Ciccio ne parlavo e la cosa non faceva tanto 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 tempo sei entusiasta comunque tantissimo togliendo la saturazione del video che l'ho visto un miliardo di volte io guardavo le tue sopracciglia quando guardavo il video volevo vedere sì ho notato ho notato ho notato certo perciò non vedo veramente l'ora anche perché non vedo l'ora di ritornare a divertirmi in un video e quindi tutto il processo è stato così è stato divertente è stato sfidante perché portare alzare l'asticella su YouTube soprattutto su YouTube Italia se non principalmente è un po' una partita persa io ci sono andato totalmente in perdita con questo video qua ho speso circa dei 15.000 in su la monetizzazione mi darà forse 500 euro perché ho già fatto la prova per vedere se l'ho bloccato o no come bollino lo è perché ovviamente i contenuti sono un po' particolari sì hai censurato tutto però ci sono delle scene inequivocaboli ma era davvero davvero necessario anche perché mi ricordo di me come la persona che non si legava molto al su YouTube si fa così per guadagnare di più quindi facciamo così ma era solamente un'ode all'arte a quello che potevo fare o che non potevo fare in quel momento quindi lo facevo perciò è davvero tutta la spensatezza e divertimento che provavo prima ma con una chiave che non ho mai usato è stato bello farlo è stato bellissimo fare questo video qua e non vedo veramente loro io sono d'accordissimo con te più che altro perché io la vedo ancora peggio di te cioè io se continuo a marciare sullo stesso format senza nemmeno dargli una rinfrescata innanzitutto sei ipocrita con te stesso e seconda cosa stai cittando palesemente stai cittando sì stai fregando tutti compreso te stesso compreso te stesso sì 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 questa è la cosa più che mi arriva prima pub ultimamente proprio le ultime due settimane ho detto io non posso più fingere che mi piaccia devo cambiarlo tutto cazzo e l'ho cambiato tutto e questa cosa mi porterà bene mi porterà male non lo so secondo te come reagirà il pubblico a impatto g sarà particolare perché non può non piacerti a livello di qualità e quello là è un bel calcio nel coglione ho detto sono cambiato però è bello non puoi dire che non lo sia coglione è incriticabile da quel punto di vista come regia è la cosa che ho fatto meglio c'è la color sono le luci me ne sono mi è importato un po' di più di questo video qua perché è necessario anche alla cura di quella che era la mia persona a livello artistico ma a livello di contenuti lascerà molto perplessi perché non ha senso che sconfiggio del genere non proprio non ha senso che io faccia un video su Genshin Impact perché sì il video è un videocritica su Genshin Impact dopo due anni che è uscito capito? sì videocritica è un discorso molto più ampio è molto più ampio ho fatto vedere questo conosci Michele Perrone che salutiamo? sì sì ho fatto vedere a lui è una critica che lui mi ha posto è stata che sembra non voglio andare da nessuna parte ed è esattamente quello che a me mancava ovvero su youtube poi tu ti ricordi prima che ancora prima dell'avvento di twitch c'era sto cazzo di frase tipo eh ma tu cosa vuoi comunicare col video? un cazzo di niente a volte voglio solo fare un video eh ma la morale tipo qual è come devo leggerlo questo video? come cazzo vuoi? però c'è una morale secondo me c'è un significato importante certo ma non è stata la morale quella che ha fatto creare il video ah in quel senso no quando ho fatto il video sullo stupro cullaccio una grande morale ed è stata quella che ha portato il video ad essere creato la morale di questo video qua che non è altro che la solita mia però non ossessionatevi alle cose soprattutto che sono positive perché vi pugnalano senza che vi fanno sapere un cazzo non è stato questo l'importante l'importante è stato che per la prima volta andavo dal mio camera e gli chiedevo com'è venuta vediamo io non lo facevo più cioè volevi un po' tornare in pista via insomma con me stesso perché tutti si domandano ma perché ci ha messo tanto e la risposta che dai è uno perché è stato difficile sì due perché ero in full terapia stavo finendo stavo finendo la terapia dovevo veramente pensare a me stesso fatto sta che fermai instagram twitch per questo motivo qua ero in una situazione dove non potevo pensare a più di una cosa alla volta io sono proprio fatto così ho la ram veramente piccola sono bravo nelle cose che mi butto ma è solamente in quelle io faccio questa cosa qua nel frattempo non mi lavo non respiro però almeno la faccio dignitosa là è diventato imperativo fare questa cosa qua cioè limitarmi e concentrarmi solamente prima stai bene qua poi lavora a questo video e prima di tornare mettiti un attimo a posto le idee perché quello che hai detto la perfetta parola ho usato citare io potevo rimanere su twitch e fare facilmente 3-4k al mese dicendo a tutti quelli che mi guardavano bello questo gioco giochiamo al gioco ci do oggi quello è tutto prima in macchina ma mi guardavo la videocamera e mi piace boh ma che cos'è questa persona cos'è diventata non mi piace sì me l'hai detto anche quando Daniele era stato confermato come permabannato ci siamo visti un paio di mesi dopo la notizia e te mi hai detto che le prime volte che andavi in live senza Daniele quando tutto era ancora me lo ricorderò per sempre e c'eri te che mi ricorda ancora questo dialogo mi hai detto ero lì che facevo ciao ragazzi come va questo eri te nelle live di twitch e mi hai rimasto impresso perché ho detto cazzo se succedesse a me io ammazzerei qualcuno io non so come avete fatto a campare te lo dico io e Daniele siamo sempre in live sì sì io e Daniele siamo costantemente sì Warhammer le istanze su World of Warcraft la mamma la dinamica non solo non solo sempre le inculemonroids io so tutto io sono un vero fan conosci le inculemonroids sì sì le F-word sign le pompe in plaque io e Marco so tutto sì 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 quando io dico che vi seguo te dici ma queste robe non le abbiamo neanche dette sì certo comunque assurdo il mio miglior fan mi sa fan numero uno di tutta la lore ma io sono le cose di Mario ma sono cose inquietantissime che se ti ricordo ti fa spavento che io me le ricordo dimmene una spavento per esempio ho mangiato i miei figli che mi raccontaste una volta in Puglia durante il Nerd Cultura Tour poi vabbè il Gigante Ball è diventato ormai una anche le dinamiche di Mario cioè la cerbottana per i cani eh sono tutto tutto quasi inquietanti anche perché io a un certo punto me ne scordo sì 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 no no sì sì quindi l'abbiamo sostenuta perché comunque avevamo noi stessi che per quanto un po' formaggiosa come frase è veramente così e io e Daniele comunque sia prima di arrivare a fare live ci abbiamo messo due annetti sono stati due annetti di amicizia davvero esplosiva io e lui abbiamo una grande grande sintonia rispetto l'uno dell'altro lui mi ha detto una frase quest'anno che non ricordo bene quindi cazzo sta andando veramente tutto alla grande ma era sulla linea di alla fine torniamo sempre io da te tu da me ok sì e io solamente con un'altra cosa ho detto questa frase qua ovvero con World of Warcraft quindi Daniele sei a quel livello là sentiti il cazzo enorme ed è abbastanza vero nonostante questa cosa che molti non sanno anche perché fa schifo parlarne mai più affiatati l'hanno notata ha messo a durissima prova l'amicizia fra me e Daniele questa cosa del ban ha durissimo ero a tanto così da andarmene di casa sì ma ma cos'è che ti dà Daniele che altre persone non ti danno lui ha trovato il suo motivo cioè lui ha trovato il suo motivo e per quel motivo si ammazzerebbe è una persona convinta di quello che fa e quando io vedo una convinzione così bella forse addirittura passa in secondo luogo di cosa è convinto è in primo il fatto che lo sia convinto molto contorta come posso spiegarlo meglio è una persona molto è una persona molto convinta e quando io vedo qualcuno che è dedito a essere coerente con la propria convinzione anche se quelle cose che fa sono sbagliate va davvero in secondo luogo soprattutto se è una persona che mi fa ridere come lui e che si impegna così tanto a dire quello che cazzo pensa anche se può sembrare stupido infantile a volte gli crea danni comunque la sua vita gira attorno all'uragano in cui è dentro ma non riesco a a evitare quel punto in cui penso a lui e abbiamo momenti passati e non mi viene il sorriso proprio mi viene impossibile non riesco a pensare a me e lui litigati per più di un mesetto è proprio strano e quando litigate vi ritrovate come va di solito? no ma sarà successo tipo tre volte una io ho alzato mani aia Daniele non lo sapevi questa bro ti sei girato un po' strano ah ok lui ha questa cosa qua ti tocca la faccia tu dici quando dici una cosa che lui non convince fa eh si da non è neanche a me questa roba qua ti tratta come un coglione praticamente il peggiore dei coglioni io l'ho preso dalla maglietta inizia a struttura gli ho strappato la maglietta ci siamo presi a pugni e poi lui se n'è andato al MOBA strano io lo guardavo così e lui fa che cazzo mi guardi devi centrare di spacco il culo io se vai e poi ci siamo ritrovati al MOBA ci siamo guardati e mi ha fatto senza ridere ma strano però però questa roba che vi picchiate l'hai raccontata più volte cioè anche all'inizio all'inizio tantissimo ma perché vi picchiavate? perché che cazzo l'amicizia nasce? perché che cazzo c'è da dirsi quando si vuole bene? non mi ha convinto ma tu vuoi avere una persona sì devi dirglielo devi dimostrarlo sì però è che se becco il mase non ammazzate di bastonate le vostre persone che amate che volete bene era particolare perché io e lui a volte ci arrabbiavamo fra di noi e fra di noi le parole non funzionano tanto fra me e Daniele ok se io e Daniele vediamo che abbiamo una sintonia in quel pensiero ne prendiamo tantissimo ma se vediamo che siamo di strade diverse in realtà prima se prima vedevamo che eravamo di strade diverse di pensiero ci dovevamo malmenare non c'era niente che io potevo dire per convincere lui né lui per convincere me quindi ci bastonavamo boh ok era classica la scena al MOBA di va bene io mi toglievo il portafoglio gli occhiali lui pure ci ammazzavamo davanti a tutti come reagivano quelli del MOBA? non si può ne cazzo dire anche perché noi eravamo influencer quindi facevano stiamo fermi stanno facendo show invece lo vanno a ammazzare ecco a proposito di questo delle cose vere delle botte vere e del wrestling dello show io te e soprattutto Daniele abbiamo avuto dei grossi problemi con le nostre battute con i nostri show con le nostre scenette lascerei questo argomento come ultimo quindi ne voglio parlare con te adesso perché secondo te è così difficile? ti estendo la domanda no non le botte perché è così difficile far capire al pubblico che c'è una distanza enorme tra lo spettacolo l'essere consci che Twitch è un palco dove noi ci esibiamo e la verità perché il pubblico non capisce? io sono arrivato alla teoria cioè il fatto che ci vedano nella nostra stanza il nostro ambiente naturale quindi siamo per forza perché secondo te la gente ha così tanti problemi anche i creator che a volte ci chiamano o ci mandano vocali minatori dopo aver fatto delle battute o anche delle denunce perché no perché è così difficile secondo te Marco? perché è risposta idiota ma è davvero l'unica verità perché poi ti perdi in chiacchiera perché sei lontano da loro perché non vanno mai al bar con te perché non c'è stato mai un momento in cui vi siete preso una pizza assieme al di fuori di quello che è il vostro contesto lavorativo è proprio la prossimità parola del mese ragazzi hashtag prossimità perché se non c'è quello che stai sviluppando online anche se ti vedono nella tua comfort zone nella cameretta o nello studio anche se parli a cuore aperto è sempre gente che sta a chilometri da te e anche se fosse a chilometri raggiungibili non si vede con te mai è proprio io comunque mi ricollego al mio primo discorso però che ho iniziato a vedere questa limitazione del pubblico come una mia con un mio difetto non il loro perché loro sono pubblico se fossero più vicini a noi sarebbero creator io sono vicino a molti creator ma perché c'è quella cosa in comune in più il pubblico è diverso sta lontano ma proprio non tolomani se sta lontano fisicamente come pensiero guarda e basta noi creiamo perciò c'è proprio una distinzione che deve fare il pubblico ma se non riesce a farla io prima li biasimavo adesso non tanto davvero? sì adesso biasimo molto più me stesso perché se io voglio veramente legittimare questa spiegazione ovvero il fatto che loro sono pubblico io sono il creator già questa cosa è diversa allora non posso prendermela perché altrimenti accomunerei un comportamento intimo ovvero quello di offenderti di un tuo amico reale della vita con gente che è amica non è non a questo punto non al punto come mio fratello ovviamente perciò è un'ovvietà che a volte mi sono preso il vizio di non pensarci e quindi mi offendevo con quel coglione che scriveva quella cosa me la prendevo se loro non capivano quel messaggio ma è così scritto in delle regole invisibili che non possiamo permetterci di prendercela perché altrimenti ci facciamo un altro lavoro ci sta no ogni tanto invece mi sciacca loro parecchio io sono convinto sempre saputo il dialogo sì sì me l'hai sempre detto sempre saputo Dario sbagli quello non lo devi fare non lo devi fare non a quel livello no 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 però io è come se ci penso molto spesa sta cosa dai il fatto che lo fai dimmi un po' mi credo sia davvero interessante il fatto che c'è una persona come te che si prende una briga che una persona come te a livello di numeri di quello che hai ottenuto forse non dovrebbe prendersi non così tanto io parlo con tutti a volte le vado addirittura a cercare io vengo dalla Sicilia la mafia fa così come? ci sono delle persone amici miei che fanno così no no io mi diverto molto perché uno mi piace la polemica non ci posso fare niente è una cosa che proprio mi dà energia la polemica però a volte sembri un cazzo di culo bruciato sì è vero è vero lo faccio anche un po' ci marcio anche parecchio cioè quando vado su Commodore Zone e faccio un video dove faccio tutto l'inculerito lo faccio un po' lo sei e no perché voglio vedere i 300 commenti della gente che tilta io per me io lo faccio solamente con poche persone veramente il culo bruciato una di queste sei te chiaramente secondo me non ne hai bisogno no ma invece sì Marco cioè con alcune persone sì cioè con le persone a cui tengo veramente lo faccio col pubblico no cioè col pubblico col pubblico gioco perché mi diverto è bello è divertente è stimolante e soprattutto i commenti quelli più stronzi generano anche delle reazioni da parte tua con cui puoi andare avanti ore e ore di live sì 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 però con te è difficile mi spiego meglio quando ho detto non dovresti farlo neanche con me perché comunque sia nonostante io penso ci siano veramente dei gradi dei livelli di intimità che ottieni con una persona e nonostante noi siamo a questo livello qui proprio a questo livello qua comunque siamo sempre principalmente colleghi e lontani è veramente uno sbattimento del cazzo che quando voglio sentire Dario devo chiamarlo per me non esiste sta cosa un minuto mi suda qua voglio ammazzare qualcuno perciò a mio parere non è che dobbiamo fare un favore se faccio un esempio io dico una cosa contro i day live tu non fai un favore a me non venendomi a rompere il cazzo perché ho il culo bruciato lo fai a te se non lo fai perché è sicuro che soprattutto se tu ci tieni a me se mi rispetti quel tantino un po' che io non lo sto facendo con la malizia di distruggerti no vabbè chiaramente Marco se dici che mi pa dentro l'osso buco nasconde l'eroina è un conto va se sai perché ti dicevo prima che sei indecifrabile perché te prendiamo dieci situazioni diverse ok le dieci situazioni di Marco Merino nove sono tutte finte una è reale te prendi con la situazione reale la butti dentro alle dieci e si mischia è la storia del lupo è la famosa storia del lupo è la stessa cosa al lupo al lupo a un certo punto una è vera te hai questo viziaccio infame di dire la verità attraverso le battute ok quando ho capito dove vuoi andare esatto quando quando te sei serissimo e guardi la telecamera e dici una delle tue pesate una volta può essere falsa la seconda la terza la quarta la quinta a un certo punto fa dov'è la verità non la capisci più è incomprensibile è il fatto che noi siamo lontani non ci frequentiamo così tanto eccetera peggiora questa cosa ma bestia quindi nel pubblico io cerco un dialogo cerco la polemica perché mi dà droga ma in te è diverso in te dico porca cioè che palle sistemiamo questa situazione qua anche no non c'è niente la sistemiamo io l'ho detta solente a Daniele a Mario e a lei forse non l'ho mai detto io sono fiero che al top ci sei tu me l'hai detta anche a me in un whatsapp ma non l'ho detto allora vaffanculo coglione che cazzo vuoi io sono fiero che per una volta la maggiore piattaforma di intrattenimento e di economia online abbia come uno dei top creator non un coglione di merda che fa comicità del cazzo sono fiero di sta cosa qua perché abbiamo vissuto tutta youtube italia con l'amarezza di essere persone che portavano cose pseudo intelligenti o nel contenuto o nella chiave di lettura contrastata da Minecraft dai io ti ringrazio tra l'altro Karim Yotobi diceva Minecraft è bellissimo si si veramente una bomba Yotobi dice che chi è sopravvissuto a quella fase di youtube è come un reduce di guerra un martire ci confrontiamo le cicatrici non potete trovare parole migliori cazzo si 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 lui le trova sempre anche lui sta attraversato il tuo stesso esatto percorso si 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 lui l'ha detto anche in live da me lui è era molto aveva un periodo molto cupo dove non sapeva dove andare cosa fare a un certo punto è crollato e poi è riuscito a risalire a fare pace con se stesso e con gli altri vorrei farci un po' una chiacchiera su questo discorso qua perché non solo perché vorrei vedere lui come l'ha vissuta ma anche perché molto tempo fa io non ho mai visto tutti i suoi video ma ne ho visti alcuni perché o mi capitavano perché hai sentito quel video là vivo youtube molto così e ne ne vi di uno tempo fa di lui che era molto figa l'idea lui parlava con i vari lui dei vari momenti si ricorda e io come una fangirl fra me e me ero da solo a vedermi quel video nel mio televisore del salone di casa mia a Messina che è il più grande quindi ero un po' al cinema dissi sta parlando di me perché io avevo visto davvero ma parola per parola quello che aveva detto non l'ho mai incontrato a lui mai? mai è difficile incontrarlo non ho molto so hai visto il documentario su no è veramente fatto benissimo magari lo reacterò su twitch quando torno chi lo sa bene ma ti vedo io ultimamente vi vedo tutti bene meno male io vi sono felice vedo bene Daniele perché Daniele sta trovando la sua dimensione su youtube insieme funzionate di nuovo tantissimo beh la pizza diciamo è solamente la punta dell'iceberg perché ci sono state tante tante cose molto molto fighe divertenti cioè anche negli sguardi nei silenzi voi funzionate insomma quando vi guardate e te stai pensando a qualcosa per rovinargli la giornata quasi parliamo qua veramente parliamo di martiri e di sopravvissuti a qualcosa perché non avrei immaginato questo ritorno non avrei immaginato di divertirmi con lui né tantomeno su youtube perché palesemente è un'ultima spiaggia lo è ancora ci sentiamo ancora con due piedi dentro una scarpa il mood è strano il fatto che deve essere per forza il suo canale perché non può fare lui niente con me nella stessa casa l'abbiamo ripetuta tante volte queste cose qua ma il fatto che le ripetiamo è un indizio che comunque ancora un po' fa male no no è una cosa da ricordare sempre secondo me e quello che io mi sono accorto che c'era un problema ultimamente quando te e Daniele avete fatto quella gag incredibile di lui che ti vuole fare un gelosire di me e tutto e io ero stressatissimo perché non potevo vedere quella cosa in live e io volevo perché se c'è una clip o una roba va bene ma se te vedi un video intero con Daniele sul suo canale con te diventa un problema e io rosicavo perché la cosa era divertentissima perché lui tu non hai potuto fare la reaction no che c'è lui che fa ma Dario e te stai per dare un cazzotto cioè quella dinamica lì era fighissima io potevo rispondere come si faceva all'inizio che voi facevate il piantino di me che mi erano arrivate le carte fallate quella roba lì non si può più fare per me è uno stress enorme è il peggiore è lo stress peggiore io l'ho sempre detto a Daniele lui dice ma io ho detto secondo me il fatto che non ci possiamo scambiare le clip quante volte è successo che Daniele facevamo live ti insultavamo ti arrivavano tu rispondevi ci arrivavano io rispondevo come pazzi a Times Square con tipo sai lo mini sandwich io rispondevo con allora Marco e Daniele hanno detto questo io adesso gli rispondo così ma Dio buono ma si può fa una vita del genere che figo quello che era era bello era bello cioè quando era su Twitch era meglio ora lo devo raccontare ma più oltre si poteva fare eh sì allora devo raccontare cosa dite è una rottura di coglioni però va bene io ho fatto ho cercato anche di dare un segnale quando abbiamo fatto abbiamo organizzato lo scherzo che poi ci sei ritorto contro con te che spegni la luce io ho dato anche un segnale a Twitch io ho detto guardate ragazzi in quella live là beh io l'ho fatto ti dico la verità ma io sto giocando ti dico due segreti allora il primo segreto è che io ho fatto quella live con Daniele uno perché non lo vedevo da tantissimo tempo e mi fa sempre piacere vedere Daniele due perché il tizio di Twitch che ha il top sul Twitch che va su YouTube a collaborare con Daniele a dare spazio a Daniele o a spostare pubblico a Daniele per me era un segnale molto importante beh molto forte e la seconda cosa è che ho ho fatto una dv a Genshin Impact e che ho continuato a giocare a Genshin Impact in virtù dell'uscita del tuo video perché volevo far risalire un po' la live su Genshin Impact ma sei serio? sì sono serio stai creando un preludio non ho detto nulla perché non sapevo è vero è vero sei molto carino no no vabbè mandava e più che altro chissà se si può reactare quello invece su Twitch sì si può reactare forse devo censurare delle cose no 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 non credo va bene c'è la scena del pompino vabbè dai c'è un'altra scena che non si può quella dei dei ah no sì dai l'importante è che ci sia il buon senso che sono cose fake no ma quello che dice Masa ha ragione qual era? le corna della bimba ah eh quello un po' eh sì quello là vabbè vabbè schippo so che c'è lo schippo che cazzo devo fare io creerò una versione solo per te grazie grazie con i bollini e le coppolone anche a queste stronzate qua va buono Marco io noi abbiamo abbiamo parlato per un'ora quasi un quarto è stato molto bello grazie di aver inaugurato questo nuovo angolo grazie a te hai il sandalo il sandalo non è acceso ma la camera 1 non credo aspetta devi fare così sandalo sandalo l'ho acceso l'ho acceso occhio occhio Marco esce l'acqua così esce l'acqua ok questo è il profumo ambienti occhio Marco che ti parte ti parte sicuro senti che buono eccolo lì e diciamo che renderò cos'è col profumo al sandalo due bicchieri tribali oh e una cassa che è la limited edition di pokemon legend che brutta lasciamo perdere veramente una merda quella è pokemon legend di sicuro è meglio del gioco va bene Marco io ti ringrazio veramente tanto grazie a te di insomma di essere venuto qua da Milano per questa chiacchierata ci rivediamo su twitch ci rivediamo su twitch perché Marco sta tornando anche su twitch dove chiaramente la prima live penso sia basata su impatto c tutti i retrosceni vedremo il video assieme vi raccontro tutto bene e poi speriamo insomma di vederti un po' più presente su twitch con delle robe più più durature e ringrazio anche la regia che non so dove è finita non la vedo comunque grazie nella ben ombro ciao 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 grazie di avermi assistito in questa intervista di sicuro torneranno per la prossima anzi si spera la prossima settimana con Claudio Di Piaggio e io mi prendo un attimo di pausa con l'intervallo e poi deciderò cosa fare perché non ho pensato a niente dopo la chiacchierata con Marco ciao ragazzi grazie a tutti grazie a tutti